Continua a far discutere il caso dell'anziano di Termoli ricoverato presso il centro Covid del Santissimo Rosario. Come riferito nel nostro servizio andato in onda ieri, una parente del 73enne ne ha denunciato lo stato di abbandono, allettato, senza medicinali, nonché impossibilitato in caso di urgenza a chiedere assistenza a causa della mancanza del campanello accanto al letto. Una situazione questa, laddove fosse confermata il legale della famiglia starebbe preparando una diffida all'Azrem, sarebbe oltre che spiacevole molto grave. Ne abbiamo parlato con il dottor Mario Giannini, l'esponente del Comitato Santissimo Rosario, dirigente sanitario in quiescenza e profondo conoscitore di quella realtà. Beh, io direi abbandonato no, da noi specialmente, che vogliamo che i pazienti che vengono qui per problemi legati alla positività per il Covid vengano trattati nel migliore dei modi, almeno noi come Comitato. Se c'è qualche problematica da risolvere, noi vogliamo che si risolva. Per esempio, ci hanno detto che non ci sono i campanelli, invece no, il campanello per la chiamata agli infermieri ce n'è uno per ogni stanza e noi ci stiamo interessando a che, attraverso il vacone, che è quello che si occupa di queste cose tecniche, che siano messi i campanelli per ogni letto della stanza. Una misura questa stranamente non prevista in fase di allestimento della RSA e che, sempre secondo la ricostruzione del familiare, ha costretto l'anziano allettato e impossibilitato a chiedere aiuto a rimanere per una notte intera col pannolone sporco. Io questo non lo so, perché comunque non è che vivi tutti quei momenti. Posso solo dire che evidentemente non è riuscito ad avvertire gli infermieri che erano in servizio per poter provvedere a questa esigenza. Poi è chiaro che se ci sono altre problematiche, tipo per esempio i medicinali, perché qualcuno dice dei medicinali, va risolto il problema a monte, attraverso due soluzioni. Due soluzioni ci sono. Praticamente o il medico curante deve mandare la ricetta elettronica presso una farmacia e noi provvediamo a prelevare questi medicinali, perché certamente non possono venire i familiari da Termolo e da Lerina, insomma, è evidente, oppure è la stessa ASREM che provvede attraverso la farmacia interna a reperire medicinali. Ma la questione più critica è legata alla carenza di personale deputato all'assistenza dei venti degenti. Attualmente nel centro Covid operano dieci OS, lì destinati dall'ASREM. Gli infermieri sono stati cooptati da altri reparti del Santissimo Rosario. Medesimo discorso per l'unico medico, disponibile solo al mattino e peraltro impegnato anche in altre mansioni, con tutti i potenziali rischi connessi alla promiscuità di funzioni tra un reparto e l'altro. In realtà, per garantire un'efficace assistenza nelle 24 ore, spiega Giannini, l'ASREM dovrebbe garantire dieci infermieri e naturalmente un numero congruo di medici. Ma tutto questo, nonostante le promesse iniziali, non è ancora successo. Veramente all'inizio, come già dichiarato, ci avevano promesso sia personale infermieristico sia personale medico. Invece hanno incaricato un solo medico, che è quello che già è in servizio presso la nostra struttura, di interessarsi di questi pazienti, che per la verità sono tanti, sono troppi 20 pazienti per un solo medico, che già si occupano di altre problematiche della struttura. Gli infermieri ci sono per il momento, perché abbiamo dovuto provvedere come struttura a mettere gli infermieri che erano già in servizio, anche se ci avevano promesso che sarebbero arrivate altri infermieri. Il Comitato Santissimo Rosario di Venafro, dunque, vista anche questa criticità, che cosa chiede all'ASREM? Noi chiediamo con forza che in questi pazienti, che temporaneamente sono allocati, sono ricoverati in questa RSA, che vengono trattati nel migliore dei modi e che provveda, quindi, attraverso il suo personale, a vedere le esigenze, in particolare mi ferisco, non me ne voglia nessuno, ma all'ASREM, alla direzione sanitaria, non certamente a noi qui che stiamo in periferia e che vogliamo risolvere tutti i problemi che si creano. Grazie.